Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla 1 Roma-Napoli, per lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza, dalle 22 di stasera alle 6 di domani è chiuso al traffico lo svincolo d'uscita di Casoria in direzione Napoli. In alternativa è possibile uscire allo svincolo di collegamento con l'asse di supporto Pomigliano-Villa-Literno. Lavori notturni anche sulla 3 Napoli-Salerno, dalle 22 di stasera alle 6 di domani, per lavori all'interno della Galleria Castello e chiuso il tratto compreso tra le uscite Cava dei Tirreni e Salerno in entrambe le direzioni. Sempre su questa arteria ha chiuso all'uscita Angri dalle 22 di stasera alle 6 di domani in direzione Salerno. Sulla 16 Napoli-Canosa, sempre per lavori, ma alle barriere di sicurezza su alcuni viadotti dell'arteria, dalle 21 di stasera alle 6 di domani è chiuso il tratto compreso tra gli svincoli Avellino-Est e Avellino-Ovest in direzione Napoli. Per questo motivo si rende necessaria anche la chiusura al traffico dello svincolo d'ingresso di Avellino-Est verso Napoli. I veicoli provenienti da Canosa, una volta usciti ad Avellino-Est, possono percorrere la strada statale 7 bis in direzione Avellino-Tripalda e seguire le indicazioni verso Avellino-Mercogliano, con rientro sulla 16 dallo svincolo di Avellino-Ovest, per proseguire quindi in direzione del capoluogo partenopeo. Infine sulla tangenziale di Napoli, sempre per lavori, dalle 22 di stasera alle 6 di domani è chiusa la rampa di entrata a via Cilea dello svincolo Vomero. In alternativa si consiglia di utilizzare la rampa d'ingresso di via Pigna. Acamir muoversi in Campania, Rossella Altamura. Servizio a cura di Acamir e Regione Campania.